6 febbraio 2019, buona giornata a tutti, andiamo subito a costruire un heavy single di uno squat snatch e poi 3 round con un wrap 3 minuti di calorie bike, un wrap 2 minuti di power snatch, un wrap 1 minuto di pull ups e 2 minuti di pausa a seguire ovviamente un altro round pesi e scalature come al solito sulla grafica qui di fianco, a domani per un'altra puntata di Giver TV